Ce l'ha di Bug? Questa ragazza è innocente È stata incastrata da Invisibile Con l'aiuto di Chloe Ben fatto! È stato gentile da parte tua, Zoe Ma non sacrificarti più per me o per chiunque altro E la stessa cosa vale per i tuoi sentimenti So che sei innamorata di Adrion Non sacrificare i tuoi sentimenti per lui a causa mia Hai il diritto di ascoltare la tua dichiarazione Adrion, ma sei tu quella che ama? Anche se ama me, sarà lusingato di sapere che lo ami Fagli sapere che cosa provi Zoe, tu sei una persona meravigliosa C'è solo da sentirsi onorati ad essere amati da te Sei sicura? Certo! Non puoi tenerlo per te Ma non è di Adrion che sono innamorata Oh! E allora di chi? Sono veramente molto onorata Dico davvero, Zoe Grazie, Marinette Hai ragione È un sollievo togliersi questo peso dal cuore Dovresti farlo anche tu Che cosa intendi? Adrion Che aspetti ad andare da lui a dirgli che lo ami? Ma aspetta, cosa? Come reagirà? E cosa gli dirò? E se faccio come al solito? E complico tutto? E rovino le cose tra di noi? Marinette Ho aspettato di dirti cosa provo fin dal nostro primo incontro Ma dato che sei follemente innamorata di Adrion Ho pensato che avrebbe rovinato le cose tra di noi Ma guarda, te l'ho appena detto E devo dire che non è cambiato proprio niente Ma per me cambierebbe tutto Hai detto che confessare a qualcuno che lo ami non rovina niente È ora che inizi a seguire i tuoi stessi consigli Che cosa stai aspettando? Vai! Adrion Che succede, Marinette? Io non sono pettinata Non indosso il mio vestito più bello Non c'è musica Petali di rosa dappertutto E non siamo sulla torre Eiffel Ma anche se questo momento non è magico come lo avevo immaginato Mi sembra il momento giusto Adrion Io ti amo Non potrebbe essere più magico, Marinette Adrion No Qualcosa non va? Non lo so Mi sento strano Forse devo entrare in casa Oh, ok Scusami La cosa importante è che Gli ho detto cosa provo Vero, Tiki? Ma certo, Marinette Sei stata molto coraggiosa Hai finalmente detto ad Adrion che lo ami È una cosa grande Sì Sì Raga Scusate se vi diminuisco il volume un attimo Ma scusate per i tumori Scusatemi Ma Spero che Questo episodio con tre parti vi sia piaciuto Ora Vi farò vedere Il 18 Se volete Anche ora ve lo posso fare vedere Allora Dopo Dopo questa parte Lo pubblico E dico vero Quindi Vedrete Due video Questo qua E quello là Quindi Ciao 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 Grazie a tutti.